introduciamo questo brevissimo podcast facendo riferimento all'audio che ci ha inviato una gentile signora un'osservatrice la quale si accorta come penso molti di voi che in cielo in questo periodo ci sono due oggetti celesti molto luminosi ad ovest mi sei venuto in mente perché in cielo sto guardando che ci sono due stelle luminose allineate una più luminosa e l'altra un po meno una sopra una sotto non si vedono le altre stelle c'è quindi quale sono super luminose mi sembra di ricordare dei tuoi insegnamenti che quella più luminosa potrebbe essere venere e quindi si vedono così tanto le vedi anche tu analizziamo il suo breve ma interessantissimo audio la nostra osservatrice parla di due stelle luminose poi parla di due stelle allineate una più luminosa e l'altra un po meno poi ci dice che una è sopra e una è sotto ma soprattutto ci dice non si vedono le altre stelle e poi in un diciamo barlume di conoscenza avuto forse ascoltando i nostri podcast o seguendo delle lezioni di astronomia si chiede se quella luminosa è venere effettivamente quella luminosa non è una stella ma è il pianeta venere quindi i due oggetti che si vedono in cielo sono il pianeta venere più luminoso e il pianeta giove un po meno luminoso cosa c'è di interessante nel nel suo audio secondo me non si vedono le altre stelle e questo accade ormai da tutte le località di città perché l'inquinamento luminoso unito anche all'inquinamento atmosferico non ci permettono più la meravigliosa visione del della volta celeste con le sue costellazioni e ci rimangono solo i pianeti e il resto delle stelle e sembrano scomparse ma scomparse non sono ci sono solo che l'atmosfera inquinata dal punto di vista della luce artificiale e anche dal punto di vista chimico non ci permettono più di vedere tutte le costellazioni nella loro interezza termino questo questo appunto brevissimo podcast magari sarà oggetto di un altro podcast proprio sull'inquinamento luminoso e lascio la parola al mio collega loris ramponi quante volte ci capita di vedere in cielo qualcosa di strano particolare che colpisce anche l'attenzione dei più distratti che non ci può sfuggire anche a chi non guarda mai cielo è di solito il nostro legame col cielo per questo tipo di eventi alimentato anche dalle informazioni degli organi di stampa e dalla televisione cosa sono gli ufo gli ufo queste questo veramente incredibile parlare ancora oggi di questi argomenti qui vedere ancora pagine tante pagine dedicate appunto ad articoli con con queste segnalazioni che nulla hanno a che fare con con l'aspetto scientifico oppure quante volte appunto si trascurano le segnalazioni di quegli eventi che meriterebbero di essere osservati come ad esempio quando la luna si avvicina ai pianeti così vicina che diventa per tutti più facile individuare che quello è un pianeta quella è una certa stella un altro oggetto a volte anche i pianeti si avvicinano tra di loro e quindi ci sono queste incredibili coppie celesti che allo stesso modo non possono che che lasciarci diciamo così lasciare gli occhi attratti da 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 questi eventi che appunto ripeto interessano più non solo chi abitualmente se ne occupa ed è proprio con questo spirito quello di farci riconoscere le cose del cielo quelle quelle più facili che tutti possono seguire ad occhio nudo e anche ricordarci tanti eventi fenomeni che si possono vedere occhio nudo che è nato il progetto cielo il progetto cielo con il quale gli insegnati in primo luogo stimolando i loro alunni i loro studenti ma anche i genitori possono semplicemente aprire le finestre simbolicamente usate per questa iniziativa che infatti si intitola anche finestra sul cielo e quindi ricordarci che a doppio nudo ci sono veramente tante cose del cielo che si possono vedere soprattutto quando ci troviamo in occasioni favorevoli magari per ammirare l'aspetto del cielo notturno quello vero pieno di stelle senza luci artificiali dove c'è una moltitudine di astri dove si vede la via latea che è un po' il simbolo degli spettacoli del cielo ecco tutte queste cose si possono richiedere basta scrivere a osservatorio chiocciola serafinozani.it che tutti i mesi appunto invia alle scuole interessate agli insegnanti alle famiglie queste informazioni sugli eventi principali del cielo e gli spettacoli del cielo